Ciao amici, in questo video abbiamo visto perché fare colazione è fondamentale per dimagrire. Ma qual è la colazione migliore per la linea e la salute? Aha, noi ci facciamo cappuccio e brioche. Ah, in Italia è una tradizione. Ma il punto non è cosa mangiamo, ma cosa non mangiamo. Ma cosa fai gli indovinelli? No, voglio dirvi qual è il modo per rendere la colazione sana, completa, saziante e amica della linea. Se vi piace l'idea mettete subito mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. La soluzione arriva da una serie di studi scientifici americani pubblicati su Obesity e The American Journal of Clinical Nutrition. Vi metto i link in descrizione, andate a vedere. I ricercatori hanno studiato le abitudini degli adolescenti e hanno visto quale tipo di colazione li mantiene sazi e nutriti più a lungo durante la giornata. Ed è la colazione proteica. La colazione proteica mantiene la sazietà durante tutta la mattina, porta a fare un pranzo più equilibrato e una cena più leggera. Senza quel senso di vuoto allo stomaco i ragazzi hanno più energia, più vitalità, un umore migliore e sono meno tentati di mangiare schifezze a pranzo e nel pomeriggio. E questo vale anche per noi adulti. Quando si tratta di restare in linea, la colazione proteica aiuta a dimagrire e soprattutto a non ingrassare. Sbagliare la colazione è anche uno dei fattori di rischio principali per diabete e obesità. Ma come facciamo a fare la colazione proteica? Squaletto è abituato a mangiare pesce, ma io ho voglia di dolce. Io ho una soluzione speciale per voi, ma prima... Iscrivetevi, attivate le notifiche e most important, abbonatevi al canale. Aiutatemi a divulgare sempre più i miei video trendy e sani per tutti. Allora, se vi piace la colazione salata potete farla con le proteine magre o quelle vegane. Per esempio della crema di tofu, dell'hummus di ceci o per chi è onnivoro del salmone o delle carni bianche in un toast, in un panino. Se invece non volete rinunciare al dolce, c'è un trucco ed è questo. Basta aggiungere delle proteine in polvere al latte, vegetale meglio. Oppure preparare torte, biscotti, muffin con farine proteiche che hanno meno carboidrati. Oppure farvi uno shake proteico o aggiungere una barretta proteica dopo la vostra colazione preferita. Io per farlo uso i prodotti della Foodspring, l'azienda di prodotti trendy e sani che sostiene il mio lavoro. Io li uso davvero a partire dal mattino. In descrizione vi lascio il link ai prodotti che uso e ai miei video, con le migliori ricette per una colazione proteica che vi appagherà al 100%. Con la giusta colazione la giornata va alla grande. Dimagrire è più facile e abbiamo più energia per fare le cose che ci piacciono e non solo lavorare. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao! Ed è? Storto! Bisogna dare un esempio? Aspetta un attimo.